Prima di iniziare ragazzi vi volevo come sempre ricordare di passare da easyfifacoins.com Se siete interessati a comprare il credito di FIFA e utilizzate come discount code o come codice coupon il codice Axel con due Per avere un ulteriore sconto Link in descrizione Potente appara ragazzi qua Axel oggi oh my god oggi sono da solo i ragazzi sono qui a presentarmi allora innanzitutto Sono distrutto perché sono tornato da brevissimo dal video game show mi sembra si chiamasse così Comunque non parlerò di appunto questa sorta di fiera in questo video perché credo molto probabilmente di farne uno a riguardo Che uscirà a breve vi dico solo questo Que invece come seconda cosa che cosa vi sto portando oggi vi sto portando un wager match Cioè quindi a volte ritornano proprio dei video particolari perché infatti era da un macello di tempo che non vi portavo un wager match E ho detto oggi sono andato al video game show Un macello di iscritti mi ha incaricato Io sono gasatissimo riportiamoli una delle serie Comunque appunto ho iniziato la mia carriera ed ecco qua il wager match Oggi andrò a mettere in palio runei Sif se non mi sbaglio Non l'ho mai provato speriamo sia una bestia Ho già trovato il mio sfidante Quindi mi raccomando voglio sentire veramente il vostro caldo supporto Quindi questo video deve raggiungere 5000 mi piace Lasciatelo perché a brevissimo usciranno o meglio torneranno anche Ovviamente lo dico già adesso con minor frequenza Però torneranno i pink pali chiamati anche pink slips Quindi mi raccomando stay tuned Detto questo andiamo ad invitare il nostro sfidante E ragazzi ecco qua il nostro sfidante Nostra maglietta illegale come al solito Andiamo a vedergli la squadra Sono abbastanza emozionato perché era veramente da un macello che non vi portava un wager match Quindi mi raccomando vi voglio sentire stracarichi Allora ecco qua la sua squadra Goddiaz che squadra abbastanza imbarazzante Ma noi siamo cavalli Ah poi comunque non l'ho detto Veramente oggi mi avete portato un macello di carica Mi avete stracaricato Inizierò come vi ho appena detto A riportarmi magari il wager match e cose varie Ma poi inizieranno i video non inerenti Neanche all'ambito di FIFA Intanto Yeah abbiamo già scattato tutti al primo minuto Ci portiamo in vantaggio Come è partito questo wager match ragazzi Mamma mia Sergio Eccolo Ottimo così Bravissimo wager che vede la casette Dai roccia Ti hanno pure upgradato Dino santissimo Pensavo fossi uscita In decimo minuto Siamo già due a zero Ma siamo veramente fenomeni Buonissimo Vediamo la roccia Runei Vediamo Runei Che è scatenato È scatenato come Come chi? Come un Un carcerato in discoteca Che si scatena Dai la casette Calcio champagne No Bella 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 Wayne Runei Che dimostra La sua finalizzazione E poi si può A 90 di tiro Quindi Veramente un fenomeno 3 a 0 Siamo carichi Sì Oggi sono proprio carichi Bella Bellissima Palla per Sergione Che lo supera 4 a 0 Siamo andando Alla stragrande Dai Dai Grandissimo controllo Di Wayne Sembra proprio un fenomeno Runei 5 a 0 Poi ragazzi Vi volevo dire Queste ultime due cose Allora Per prima cosa Passate dalla pagina facebook Appunto lì che organizzo I vari wager O i pings In questo caso Jebo Si chiama così Si era la seconda persona Che appunto me l'aveva chiesto Ho scelto lui Perché la prima Non mi aveva risposto Ecco Easy così Poi magari fate iscrivere La seconda cosa È di Fate iscrivervi Il vostro amici al canale Che stiamo andando bene Per il supporto Però di iscriverti Stiamo un po' callando Quindi E fate iscrivervi I vostri amici E spargete questa voce Ecco Se no condividete Semplicemente Il video In mezzo a tutti La casetta ancora Madonna Madonna Si è fatto Addirittura autogol No mi inizia a dispiacere Però 6 a 0 Lo stiamo annichilendo Buono Ehi Vuoi il rune col tacco No ragazzi Mi dispiace Però 7 a 0 Mamma mia Come ci siamo Veramente vicini Devo dire Runetif Sif Suarez Potrà fare il 7 a 1 Gode la bandiera Per lui Non credo Possa recuperarci E ragazzi La partita è terminata Abbiamo vinto 7 a 1 Quindi Devo dire Abbastanza Easy Come partita Ottimo così E adesso Andiamo a prendersi Il nostro curatore E ragazzi Come potete Benvedere Ci ha preso Il nostro giocatore Perché non ci ha potuto Dare il rune Perché infatti Non si può Su questo dia Fare gli offerti Scambio Comunque detto questo Spero che il video Vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Un commento Dobbiamo raggiungere Superare 5.000 mi piace E fateli Iscrivere Sti vostri amici Anche al mio canale E detto questo Ci si sente Con molti video Diversi dal solito Veramente Ne avete caricato Si cambia Si torna carichissimi E quindi Detto questo Io vi saluto Passate anche Dalla pagina facebook E lì che organizzo Appunto Questi wager match Oppure i vari pink slip E detto questo Vi saluto Vi dico PODENDA Pala sera Nel prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti